Musica Turismi, sport e natura nel parco del Pollino tra i fiumi Lau e Argentino. È il titolo del convegno che si è svolto questa mattina ad Orso Marso e al quale hanno partecipato diverse associazioni del territorio. Obiettivo di questo incontro è discutere sull'importanza del turismo ecosostenibile a contatto con la natura ed esperienziale. Lo sport legato al concetto di ambiente, un'idea che si sposa alla perfezione e che completa l'offerta della riviera dei Cedri e del parco del Pollino. Mettere le basi per un futuro fatto di opportunità e non più di sacrifici. Ecco, oggi parliamo del turismo ecosostenibile. Il cavallo di battaglia di Orso Marso e della mia amministrazione è proprio questa. E siamo onorati di essere al fianco di imprenditori che hanno deciso di investire su Orso Marso. E poi venendo io dal settore dell'economia, dell'azienda, spero che questo possa essere anche l'inizio di un'imitazione virtuosa di quello che è oggi il primo passo per un Orso Marso effettivamente turistica che dia delle possibilità ai tanti giovani che purtroppo ad oggi si trovano ad essere inoccupati e non avere alcuna possibilità per vedere un futuro migliore nella propria vita. Puntiamo sul turismo, sull'avventura. Puntiamo sull'avventura, puntiamo sul valore aggiunto che questa terra è in grado di dare. Quindi non solo turismo balneare, turismo montano, vita a contatto, stretto contatto in simbiosi con la natura. La natura offre tanto. Gli eventi in organizzazione, quindi in fase di partenza, sono tanti. Ci stiamo puntando, stiamo cercando di far rinascere l'Orso Marso del passato con i presupposti del presente per un futuro migliore. Come abbiamo sempre detto, la riviera dei Cedri non è solo mare, ma è natura e cultura. Noi abbiamo tante ricchezze e dobbiamo essere bravi a saperle promuovere e farle diventare poi anche una fonte di ricchezza per quelle che sono le nostre strutture, che sempre più dobbiamo cercare di tenerle aperte il più lungo possibile. Quindi non solo nei quattro mesi da giugno a settembre, ma cercando di allargare sempre più e destagionalizzare quello che oggi è la normale attività che viene svolta nel nostro territorio. La promozione di queste iniziative, di queste attività, come quella che si svolgerà quest'oggi, è un altro tassello che si va ad unire oltre a quell'offerta che già conosciamo come la discesa in fiume con il rafting. Diversi soggetti che hanno aderito a questo progetto, come le associazioni Arca e Didas Calabria, che hanno realizzato il nuovissimo Centro Esperienza Valle Argentino in località San Francesco, sorto dalle ceneri di quella che era l'antica segheria che nel secondo dopoguerra ha dato prosperità ad Orso Marso. Un luogo originariamente nato per la produzione industriale, ma che è stato reinventato e rimesso a disposizione della collettività. Un cambio destinazione che molte località della riviera potrebbero prendere ad esempio per riportare alla vita luoghi dismessi e che potrebbero levere le immagini dei vari centri. Iniziativa importante perché oggi parlare di turismi richiede necessariamente immaginare nuove forme e nuovi percorsi. Ed è quello che ci racconteremo oggi. Oggi parleremo di turismo naturalistico, parleremo di turismo sportivo, che è un percorso che abbiamo iniziato già da un po' di tempo, con l'Arca, con Ecotour, con le altre aziende della rete e che ci ha portato per esempio a realizzare un centro di esperienza proprio qui a Orso Marso. Non a caso alla fine del convegno ci sarà l'inaugurazione ufficiale del primo centro di esperienza all'interno del Parco del Pollino, nato proprio qui nel comune di Orso Marso. È sempre più indispensabile pensare ai turismi e alle altre stagioni nelle quali poter raccontare del nostro territorio, dei nostri paesaggi, delle attività che si possono vivere e svolgere proprio nella Riviera dei Cedri e nel Parco del Pollino. Non a caso in questi ultimi mesi siamo stati dei facilitatori, degli animatori nei confronti di alcuni soggetti che hanno per esempio realizzato nuove attività sportive proprio su questo territorio, parliamo di Orienteering, di Beardwatching, di Arrampicata. Tutto questo per offrire un più ampio ventaglio di servizi, un'offerta più completa, sempre più sostenibile, sempre più accessibile. Sì, viene supportata proprio dalla messa in pratica di quello che noi raccontiamo puntualmente ogni giorno. la spinta a tanti di investire, investire sui punti di forza della nostra terra e tra questi c'è proprio il turismo ecosostenibile, il turismo dello sport d'avventura, l'avventura in sé e la vita con la natura. Questo nuovo centro dà la possibilità ai piccoli e meno piccoli di poter sperimentare esperienze in quelle che sono l'arrampicata, in quella che è la vita a contatto con gli animali e la natura e in ulteriori esperienze che il centro ovviamente metterà in campo da oggi in avanti. Un progetto che ha ottenuto il benestale della Regione Calabria, del Parco Nazionale del Pollino e della FISO, la Federazione Italiana Sport Orienteering. C'è questa bella idea di poter offrire su questo territorio straordinario anche una sorta di mettere in campo un'offerta che sia diversificata, quindi non solo il sole e il mare ma anche queste straordinarie bellezze. Poi qui siamo nel cuore di una delle valli più belle del mondo e quindi da questo punto di vista le attività che saranno messe in campo, anche quelle che riguardano il cosiddetto asset del turismo sportivo sono sicuramente quelle sulle quali noi punteremo molto. Peraltro chi viene nel Pollino, io lo dico spesso, non viene solo per la sua natura o per la filiera dell'enogastronomia o per i beni storico-culturali, viene anche un segmento anche per il cosiddetto turismo sportivo. Noi sono anni che c'è la pratica del rafting nel fiume Lao, ci sono una serie di grandi attrattori, penso al volo dell'Aquila, tanti parchi e avventure disseminati lungo il territorio del parco. Qui questa idea di realizzare tutta una serie di percorsi che riguardano il turismo sportivo in questa valle io credo che troverà sicuramente il nostro supporto e anche il nostro consenso. Sì, più che un contributo io sono venuto ad ascoltare per capire meglio come si stanno attrezzando i territori e metterli a sistema con altri territori. La regione è molto impegnata nel promuovere la Calabria per le sue caratteristiche culturali, naturali e soprattutto della qualità della vita che c'è in Calabria. Quindi è un convegno importante, per me è una bella giornata perché è un territorio straordinario, vedo che il territorio si è attivato intensamente, non solo nella parte pubblica ma anche nella parte privata, è un buon auspicio a un buon lavoro. Io ho fatto una piacevole e bellissima scoperta arrivando in questa splendida località che non conoscevo, sono rimasto incantato e ancora più convinto che la nostra disciplina sportiva, che voi sapete è denominata lo sport dei boschi, si può sposare in maniera eccezionale con l'ambiente che ci circonda e soprattutto può prendere spunto dall'entusiasmo del Presidente Napolitano, di tutti i suoi collaboratori e dalla sensibilità e disponibilità dell'amministrazione comunale di Orso Marso.